Arriba la truffa? Ma come capita? Se c'è più non so Se c'è di Umix Se c'è di UMIX Se c'è di UMIX Questo è uno Ma sa che già capito? Questo è un po' Se c'è di UMIX Se c'è di UMIX Si sta rompendo A parte la posizione di sepolterno Ma pensai che coltello ciò vuoi Ma chi è che dà il via? C'è un canale La prima parte di URANZA Davanti Dice Gesù Io sono la via La verità è la vita Dice Gesù Nessuno viene al Padre Se non permesso di me Preghiamo Dice Gesù 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 Sì 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 Grazie. 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 Un video di una mescola. Dopo, dipende da quanto spazio... Ah, però... Ma tantissimo. Dopo i conselli vengono cancellati. Sì, voi vedete l'ha messo le tre mani qua. Certo. Ah, ci si conservano per un po'. Certo. Ci servono per alcuni servizi. La fruici nel momento, dura un giorno. Già, alla sera, alla mezzanotte, cancello tutto e ricomincio. Ci sono arrivati anche gli archivi di spazio. Qui in Svukio, se ne ho mai fatto i video, non so per quanto tempo la conservo. Quell'altro è che la conserva anche, fino a... In Italia c'è un tot di giga di utenza. Finché il limite si conserva tutta la vita con l'altro. Di sale. E' una macchina che fa l'acqua giù, no, c'entra, lì c'entra, solo tu. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. e' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. E' una tradizione scientifica secondo me, adesso, al di là del periodo. Guardi come c'è la sua entità di zoom, però fin dove arrivi... Per tempo portatile fa un fischio. In un po'... Sì, ma invece invece, magari qua non possono vedere il suo, ma... ...però nel loro genere sono... ...una fascia alta di continuità, sì... ...che a destra non da roba... ...per me è... No, perché dove ci fai? C'è un programma, fa un programma... ...perché c'è una... ...se ci fai... ...c'è una strada, una strada... Sì, sì, ma... ...sì, sì, sì... ...ma cosa? Sì, sì, sì... ...ma cosa? ...se, sì... ...la strada... ...alute... ...si, sì... ...sì, sì... ...fatti, devi fare editing... ...video... ...un poco di... ...di un certo livello, ...se vuole... ...un bel processore, ...istanta ram... ...mi più invenimento... però fanno cose anche di un certo livello ci mette di più il roccia di sasuna bene il mio dio e c'è anche il bennetto della qualità che vuole perché si conviene in 4k certo che è il tuo dito capito perché non c'è un tigolo ma è il tuo bambà è il tuo bambà a me piace proprio il Mario adesso sono dentro il Python da un po' di tempo no il Python è il linguaggio di programmazione io ho una stazione metro semiprofessionale installata finalmente su di casa l'ho fatto in sito internet e ha diversi anni si vedono tutte le situazioni la temperatura di minacca la velocità se sono in giro però se sono in giro quindi a lui ho fatto quello che ho è quello che ho è quello che ho è quello che ho ho fatto un po' di tempo allora perché ho beh, quello che ho fatto è 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 quello che ho programmato tutto il sito ho fatto un po' i grafici ho visto quella della storia, una Davis una verizzante esossitura nel tetto si vive fisicamente c'è la fotografia non c'è la fotografia non c'è la fotografia si, si, non c'è la fotografia si, si, non c'è la fotografia si, si, si ho anche la mia, di un livello buono c'è un americano, un monoglocco senza parte di movimento completamente automatico che ogni 10 secondi manda i dati, c'è delle sonde c'è il server che le acquisisce in formato o csv o xml e io vado a interrogare e a regolare questo file che mi viene reso nella stazione media estratto i dati che mi interessano e li incastono nel sito quindi c'è la fotografia di luminosità per il sud poi ci sono misure calcolate interessanti l'indice di calore il view point la sensazione di via perlomeno il lumino decine di inverno tipo se c'è 0 gradi ma c'è una tramontana a non so a 3 km all'ora a 10 km all'ora è come se fosse qui a meno 5 o a meno 6 l'estate guarda se c'è un 30 gradi con un 60% di luminosità è come un 30% quindi anche questi 11 calcolati l'evapo e traspirazione poi c'è la sezione gratis c'è una cucarina in giallo street c'è anche più in mezzo allora questo è un montoniere che è stato da qui non fanno anche da questo qui c'è un'attesa qui c'è un'attesa qui c'è un'attesa allora è stata a casa quasi tre lì adesso piano piano ha ripreso la porta qua e un giro che c'è una stessa di terra quindi i colleghi c'è una maniera quella spesa da un po' le sue macchine a tutti i suoi no no certo certo però c'è una macchinetta qui insomma poi per l'altro vado via la macchina vado via Montecchio di Valfoglia quindi la casa mia sono 47 km vado via la macchina e poi vado via la macchina quindi vado via la macchina fino alla sera alle 6 sono sempre da chiudere la macchina è venuto chiudere molte agenzie quindi sono rimaste poche in giro no qua c'è vero una stramata questa nuova per via la macchina 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 ci sono c'era il bambino c'era il bambino c'era Pogba c'era Santander c'era Corbano c'era Santander e questa che ti ho detto è Cosa non è Pogba non è Pogba ma è Pogba la scelta è dovuta al conto economico il bilancio E' una quadra, l'Ungheria è campata, gli stati invece sono stati, lo scappato anche il moto, come lui. Il Davide Rossi, no? Ma sembra che non sia giustato, che non è neppiato. Ma lì, noi stanno lì, per me, 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 per me. Quindi, per agare per queste nuove scudate, a fare i prepositionamenti, per le prevencini, a che via 3-4-5 anni, per le indici, per andare nel 22, per me, per me, per me. E' una prima parte, per me. Un intanto, una banca apre queste finestre, d'estisci, così si fa un altro progetto a tutto, mi accetto. Grazie. Ancora qualche linea di debilità c'è, adesso adesso in questa nuova mossa dell'inchesa che sta a sotto, mi dice già il 28-27, il Matteo Martini, che ha lanciato l'offerta giudica al sistema migliore, mi sembra che il mio ministro dicono che raggiungerà un'ostante, 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 quindi praticamente la ugite non è usata da l'inchesa, considera che l'inchesa è la prima mossa dell'inchesa, quindi la prima ricerca diventa un mossa dell'inchesa, e immaginate quello sta che viene fuori, e quello che può portare, siccome l'onore c'è stato un mossa dell'inchesa, ci ha messo 5 milioni di euro e non c'è sempre, ci ha venuto a stare per tre anni, ah, il basso di un doppio di del Vene, c'è la vendita, sì, ancora c'è, si è venuto, c'è tutto l'interessamento di un'ottima regione, di una banca popolare di Miliano, di Miliano, anche l'ostante dovrà uscire, non so quanto dovrà essere, tre quarti d'ora, oggetto di una partnership, di una fusione con un po' di altri istituti, questo è un po' quello che ha portato a qui almeno, che diventeranno a tendere, a tendere il sistema bancario, diventerà 4-5 milioni di bancai al giorno, e le ripartono, e mi mandano, anche loro sarà libero di fare una federazione di delle piccine italiane, una cosa più integrata, più diversa, il nome è quello, però, il piccino, il tau, il pisaro, quello di pazzo, però anche lì c'è qualche cosa che poi l'invento da fare qualche aggregazione, però loro dicono che le ripartono, ci saranno poche, non lo stesso, noi le banche italiane, quindi le banche uniche, ma che i pugni, già c'erano il primo, la banche uniche, la banche uniche, la banche uniche, l'antone e tantissime cose, ma il fine di succedere a quello, ma il motivo è sempre, se si deve arrivare a, i costi sono pauroni, e quindi devi fare la massa, la massa critica per il resto efficiente, continuare a compitere nel mercato, se no, se ce la fai, vieni assorbito, o devi chiudere, e fallisci. ... ... ... ... ... ... ... di vita. Una cosa molto semplicistica però. Ieri c'è stata l'inaugurazione del campetto e sul piazza Mascano. Quando c'era nessuno ho ripreso il campetto, i tre campi di pallacanesso, tra lavoro e calcetto. Com'è il drone? Ah, il drone va davvero. Posso un po' stare qua? Prego. Cammino adesso. Ciao, ciao. Dopo, con quella mano, ho fatto viva, però c'era il sole contro. Io andavo alle 6 di sera, il sole l'hai giù, c'è l'aiutino contro. Quindi se fai solo... Scusate, prego. Pagano, non c'è un drone. No, adesso è un pezzo che non... Non ci batte tutti, anche non ci ha... Non ci ha... Non ci ha... Il video è ripreso. No, 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 no. No, 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 no. L'ultimo si che hanno portato fuori, però per esempio la linea Phantom finisce con il 4, non l'hanno, è finita, finisce lì quella linea, finita perché non c'è neanche più l'app con il Phantom 4, è tolta, io ce l'ho, esatto, io penso che il Phantom 4, Phantom Pro, Phantom Advance abbiano la stessa applicazione, però, difatti quando te prendi le eliche o compagnia ti mette Phantom 4, Phantom Pro, quanto, che capito, rientrano, no, cioè i magazzini, quelli che ce li hanno, quelli che ce li vendono, poi lo fa morire lì, siccome quello è stato quello che ha dato in via, ed è stato anche il più tecnologicamente più avanzato, e loro si sono tagliati le gambe perché il prezzo di quello è la metà di quello che vengono fare adesso, quelli meno, meno... Adesso hanno puntato sui Mavic, il commercio, non so perché, forse è la persona forma più... Sì, è una forma... Più aerodinamica, più piccolino, esatto, però... Il Phantom è più in aspetto... Ma sembra in catafari, non lo so, non lo so... Il Phantom 4 tiene più... è più stabile, rispetto al Mavic, eh? Ecco, lì, rispetto all'altro, l'altro... Non rimane più fermo, esatto, io vedo, te, può tirare il vento, ti sta lì, Sembra uno... Se sbatte da estra e da sinistra, però è lì, non ti va né avanti né indietro. Il Mavic è più... Il Mavic è più... Di fatti io ho qualche tremore di troppo, ho causato di... Ecco... L'unica notte che... E' di fatti io... E' di fatti io... E' di fatti io... Grazie. 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 Sì, devi chiedere l'alteorizzazione. C'erano i dronisti. Lo potrei fare anch'io, perché il piloto ce l'ho. Però, chi organizza? Se c'è la sicurezza è bene. Tutto è successo. Chi ci lavora? Ecco. Bebata. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao.